Sì, sono già giocati dai tuggi, potete vedere i due tuggi che sono giocati dal船 e si inizia a aumentare la velocità, fino a 6-7 notti, e oggi è molto buono weather, non sguardo, non il vento, quindi è davvero molto facile di gestire questo tipo di vessel. Siamo una company di 22 piloti, e il nostro lavoro è portare le navi dentro il porto, da l'auberto, da l'auberto in Saffetit. E questo significa che stiamo lavorando insieme con i tuggi e i muri, con le persone che sono portate sulle navi e abbiamo gestionato il lavoro dentro del porto e con la maggior parte della Saffetit è possibile. Saffetit è possibile. Mon nome è John Gatti, sono il chief pilot per Gienoa. Grazie.